Allora, benvenuti innanzitutto su Twitch, qui su Twitch di Mello e non so se avete notato anche voi una certa, come si può dire, pulviscolo di cialtroneria in giro per il web sono diventati non solo più tutti allenatori di calcio, incredibili, erano già bravissimi, 50 milioni di allenatori in due anni questi 50 milioni di allenatori si sono laureati su Google e sono diventati virologi e così nell'ultima settimana iniziano ad esserci problemi nelle zone dell'Ucraina e della Russia e tutti quanti diventano esperti di diritto internazionale quindi praticamente l'italiano medio oggi è virologo, esperto di diritto internazionale, allenatore di calcio ma è una cosa incredibile, pazzesco, siamo veramente un popolo fortunato dove il popolo medio italiano per fortuna tutte queste competenze quindi sappiamo che poi quando andrà a votare, grazie a tutte queste competenze saprà discernere il bene dal male, il giusto dallo sbagliato, eccetera, eccetera, eccetera ovviamente non è vero, gli italiani non sono virologi, non sono assolutamente allenatori di calcio e non sono tantomeno esperti di diritto internazionale però chi è sul web deve essere un po' tuttologo, deve essere un po' assertivo deve dare le risposte alle domande che quella settimana le persone stanno cercando su Google quindi andiamo a vedere su Google Trend, che cos'è che cerca la gente andiamo a vedere su Google Suggest, che cos'è che cerca la gente abbiamo capito che cerca Russia e Ucraina boom, dobbiamo parlarne e dobbiamo essere esperti di sta cosa che fino all'altro giorno ignoravamo però nell'arco 24 ore abbiamo letto tutti gli articoli esistenti e ne sappiamo tantissimo quindi troverete un sacco di cialtroni su YouTube e su Twitch che parlano di questo argomento i più fortunati ascoltatori di questi streamer magari beccano lo streamer che hanno portato l'esperto della materia con loro in live e quindi vengono fatte domande e considerazioni e si ascolta un po' cosa dice l'esperto come abbiamo fatto noi con Poltrona Politica se andate su YouTube ritrovate la live con Salvatore Sant'Angelo The Net Project e parlare geopolitica ma i più sfortunati ascoltatori di Twitch andranno a beccarsi delle live o dei ricaricamenti oppure direttamente su YouTube dei video dove o il cialtrone di turno è da solo o è diventato esperto con la lettura degli articoli di Google o è in compagnia di altri cialtroni non li vogliamo chiamare cialtroni perché è offensivo possiamo chiamarli tuttologi quelli che sanno sempre tutto di tutto incredibile con una ricerca di Google in 24 ore la cultura è veramente a disposizione di tutti anzi diciamo così lo ripetiamo la cultura è in affitto vai su Wikipedia cerchi su Google ti leggi quello che c'è da leggere sei pronto per andare in live e dare tutte le informazioni del caso senza creare alcunissimo valore sull'informazione oggi l'informazione ce l'avete a disposizione in qualsiasi momento basta cercare sull'ANSA basta cercare sui giornali e infatti se vi fate il giro di tutti questi cialtroni tuttologi sentirete sempre le solite cose che sono tratte sempre dai soliti articoli fanno eccezione ovviamente il grandissimo del livello supporto una politica è l'unica eccezione perché davvero mi sono sentito e visto tutto quello che era uscito vedo il podcast politics di Francesco Costa e poi che cosa è successo girando ora facciamo una ricerchina su YouTube cerchiamo Ucraina e Russia andiamo a sentirci un po' tutti quelli che dicono e scoprirete che fino a 24 ore fa più o meno la guerra era impossibile era improbabile al giorno d'oggi la guerra non si fa la Russia ci rimette noi e abbiamo tutta sta pletora di gente che ripete quello che ha sentito da qualche altra parte che lui aveva visto e letto da qualche altra parte insomma avete un'informazione per derelato per derelato per derelato per derelato che viene solo ripetuta senza alcunissima eccezione ovviamente un altro esempio di chi non aveva fatto questo giochino da quattro soldi è Andrea Lombardi che è uno che si informa per davvero che studia per davvero magari fino a qualche giorno fa neanche lui ne sapeva molto però lui fa uno studio più approfondito cerca di veramente andare nel profondo invece la maggior parte delle persone deve fare un sacco di visite parlando di quello che non sa e va bene ci sta è un gioco voi lo seguite questo gioco voi siete la fortuna di chi fa questo gioco qua siete corresponsabili di questa cosa però magari vi va bene perché potete ripetere al bar mentre prendete l'aperitivo quelle due informazioni che avete colto durante la gorà si sta un po' di Van Greco si sta un po' come al bar e ci vado pure io al bar mi diverto tanto quando la discussione diventa seria mi annoio un po' e mi piace di meno la gorà di Van Greco è bella perché si gioca e allora lo scorso lunedì ero presente sono stato fino a un certo punto poi me ne sono dovuto andare ma la live è continuata e arriva Boldrin all'interno della live dove c'era anche il buon Tenet Project che qua su Twitch ha un canale parla di politica internazionale lui è un ricercatore di politica internazionale insomma è uno che la studia e l'ha studiata non è un improvvisato inizio a guardare questa live di Van Greco perché il titolo è Michele Boldrin si incazza in agorà sulla situazione russia-ucraina e dico si incazza il buon Michele Boldrin da cui ci si aspetta sempre per chi è un po' più un nabbo una considerazione di valore su tutto lo scibile umano in realtà ho dimostrato nei confronti con lui ma si è visto anche in altre occasioni che Michele Boldrin gioca a questo gioco del blastaggio che piace tanto agli internauti di questo tempo e la gente è più soddisfatta del blastaggio più di quello anzi non ascolta neanche le argomentazioni che Michele Boldrin ha e va bene così ma ma c'è stato un pestone che ha pestato il buon Boldrin in quella live già anche lui come tutti gli altri ma no la Russia ma figuriamoci che entra in guerra ma assolutamente no sempre molto assertivo il buon Michelone e poi inizia una discussione da bar tv Malacor si un po' sopravvalutato più che altro perché gli danno come posso dire un valore di riconoscimento su tutto quello di cui parla quando in realtà è una la sua cosa e per il resto è tutto come gli altri inizia questa inizia questa live inizia questa live e Boldrin inizia a essere vi giuro è una cosa che non capisco cattivissimo nell'espressione brutale nell'espressione contro Tenet Project mi fa fighetto che non sa niente codardo inizia a dare una serie di definizioni di Tenet che io dico che cazzo avrà mai detto Tenet se voi andate a rivedere quella live vi accorgerete di che cosa succede succede che Tenet Project che uno che al contrario di Boldrin sa cos'è la politica internazionale la studia la approfondisce di continuo ad alti livelli ha una forma mentis che io rispetto moltissimo e qual è la forma mentis di Tenet che io rispetto moltissimo chi parla di politica internazionale questo è una cosa che riscontro con tutti i professionisti di questa materia e che tendono a essere sempre molto distaccati a limitarsi nei loro giudizi etici e morali nei confronti dei protagonisti delle vicende internazionali degli stati dei territori dei popoli e perché me lo sono chiesto per tanto tempo ma ieri ho capito perché fanno così perché altrimenti diventi un postribolo di bias cognitivi come Michele Boldrin che praticamente basandosi sul fatto che reputa Putin un dittatore assassino eccetera tutte cose che per me pure è la sua considerazione è che tutta la cosa tutta la propaganda che ha fatto Putin in televisione è frutto di un malvagio di un cattivo da fumetto no? siccome è un assassino eccetera è un bugiardo lui sta solo dicendo le bugie senza alcun senso e inizia a dire a Tenet dillo è un assassino un assassino e ti dice io non ti rispondo per il semplice motivo perché non non è non aggiunge valore alle nostre osservazioni arrivare a una considerazione come se lui se Putin è un assassino o non lo è non crea il minimo di valore in più e voi direte non so cosa ne pensate di questa cosa in chat io adesso tra poco vi leggo ma io quando l'ascoltavo diceva mazza Tenet che professionista ma abbiamo Tenet professionista del diritto internazionale esperto del diritto internazionale Michele Boldrin uomo che parla della Russia-Ucraina come al bar se vuoi andare al bar gli sarà che dice che Putin è buono che dice che Putin è cattivo e quindi tutte le osservazioni che derivano da questa considerazione sul personaggio poi saranno tutte quante declinate secondo quel pregiudizio ripeto Boldrin ha dimostrato proprio come l'uomo medio può essere un po' stribolo di bias cognitivi che non ti permettono di parlare di argomenti in modo serio come invece fa Tenet Project che ripeto ho avuto ospite con grande piacere l'ho potuto osservare e ascoltare e perché Tenet si rifiuta per tutta quella live di non rispondere alla domanda di Boldrin è un assassino è un assassino Tenet non risponde perché la forma mentis che ha è più importante della risposta che poteva dare a Boldrin nel senso se penso che funzioni così nel diritto internazionale se io osservo quello che accade nel diritto internazionale nel diritto nelle relazioni internazionali devo cercare penso di limitare il più possibile i pregiudizi i bias i giudizi etici e morali perché altrimenti tutto quello che vedrò lo interpreterò secondo quella cosa lì se invece io non entro nella forma mentis che devo giudicare il personaggio come buono o cattivo e vedo magari che le relazioni internazionali sono delle relazioni che nascono sul concetto che a muovere i personaggi della politica internazionale gli stati e popoli sono gli interessi allora posso cercare di capire perché magari dall'esibizione in televisione di Putin posso cercare di capire delle motivazioni che ci sono dietro quindi c'era Boldrin che sosteneva che praticamente Putin è un cattivo da fumetto in quanto assassino e bugiardo aveva fatto una cosa solo perché è un assassino e invece diceva secondo me non dobbiamo ragionare così perché magari dietro quelle bugie quell'atteggiamento quell'iniziativa se noi lo osserviamo in modo esterno possiamo trovare delle risposte ovviamente il giorno dopo sotto i commenti ci sono elogi al blastaggio di Boldrin ma perché siete tutti quanti dei deficienti vi piace chi è più cattivo i cattivi li possiamo fare tutti ragionare con tranquillità e anche con un certo grado di attenzione come ha fatto Tenet non so Tenet non sono capaci tutti vediamo un po' vediamo un po' incredibile cazzo Boldrin ha cannato anche questa previsione ma c'era una previsione che Boldrin non canna prima quando intervistava me dicevo che Renzi aveva fatto tatatata no 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 poi Renzi un po' rivalutato poi arriva Marattino che gli spiega le stesse cose che avevo cercato di spiegargli io in live tutta live di Liberi Oltre sta catechizzando gli ascoltatori con una visione simile a quella di Boldrin ma il mondo è fatto di secondo me tre tipi di persone i lupi anzi partiamo le pecore quelle che hanno bisogno di stare in gruppo e belare all'unisono per sentirsi al sicuro e di valere qualche cosa ci sono i lupi che vogliono mangiare le pecore perché sanno che le pecore si muovono non sono tanto svegli e poi ci stanno i cani pastore quelli che li dovrebbero proteggere le pecore ecco non so se i libri oltre sono i cani pastore o i lupi tenete ragione come un ambasciatore o come funzionario di Stato che cerca di mandare una versione multipolare ma si ma anche quando si analizzano in realtà in camera carità dei discorsi dei capi di Stato così io ho letto un paio di libri sull'ascolto in stile FBI CIA è meglio ascoltare le parole e cercare di capire cosa si nasconde dietro quelle parole cercare di capire le intenzioni piuttosto che dire no è cattivo quello che dice e fa è frutto della malvagità anche perché perfino un assassino può avere ragione in una determinata situazione non che vogliono insinuare nulla su Putin ma certo ma è la stessa cosa che diceva lei diceva ma adesso se io ti dico che è un assassino a noi cosa ci aggiunge allora facciamo una cosa diciamo cosa aggiunge nel caso fosse un assassino e nel caso non lo fosse non è che Tenet non voleva rispondere per codardia ma per forma mentis che nella sua materia è importante si ma tra i commenti ho visto pure gente che parla che non aveva Tenet a Salvini non so che dire sì perché gli diceva che era un filo Putin cioè Boldrin senza conoscere Tenet senza neanche predisporsi all'ascolto si è fissato su quella domanda che solo le pecore come voi potevano ritenere una domanda che stava mettendo in crisi l'interlocutore quando l'interlocutore era in crisi perché magari lui rispettava l'interlocutore che era Boldrin mentre Boldrin non rispettava lui e allora è la vittoria della maleducazione purtroppo con la dicotomia buono cattivo non so quanti ripetersi salverebbero tra l'altro Boldrin è un po' che si sente illuminato per far prevalere le sede sugli altri dato il fascista è il criminale si 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 fascista 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 un giorno glielo dovevo chiedere signor Boldrin ma adesso il fascista che lei è lì con lei la sta guardando perché a un certo punto dovrebbe chiedere non lo so non lo so non sono sono fan ma non così tanto per sapere tutto quello che ha detto mi piace Boldrin io sono dalla parte di Putin e voglio accogliere le profughe ucraine e integrarle top top ma qual è la differenza tra bielorussia e russia uno c'è a bielo prima di russia basta guardare la carta geografica è un'estensione che si trova sopra l'ucraina geograficamente ma non sono io che ti devo rispondere non ci capisco niente se è così io ascolto molto sempre volentieri poi se volete che vi ripeto le informazioni di google eccetera che vanno già detto tutti sono buono sì questa l'ho presa da medical sniper esatto secondo me invece il discorso di Boldrin era sensatissimo fondamentalmente diceva che se ammetti che sia un pazzo assassino allora riesci a comprendere cosa possa effettivamente scatenare una guerra insensata come poi ha fatto no 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 perché la considerazione di Boldrin era che Putin fosse un pazzo assassino ma che la guerra non sarebbe scoppiata questa era la sua considerazione se pensi che è un pazzo assassino allora tutte le tue considerazioni sono frutto di questa visione quindi non 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 intendi altro ma che ci saranno degli interessi di Putin ci saranno degli interessi dei russi ci saranno degli interessi della Russia perché attaccare l'Ucraina non c'è nessuna motivazione che riguarda la difesa la sicurezza l'economia zero è solo pazzo e poi per quello che fa quello che fa lo trovo ridicono e poi hanno scoperto gli economisti una cosa che forse non non tengono conto quando parlano dei loro grafichetti dei loro dati che purtroppo esiste una cosa che si chiama fattore umano dove tu non non puoi permetterti di prevedere come le persone decidono di agire in determinate situazioni perché se tu fai così un caffè per lo stagista ci sta pure stream delima si è influenzato non sto cercando di parlare piano perché ci sono anche altri colleghi in studio come sono rimasti in studio questa sera per boldrain pure limes e filoputin si perché magari tu cerchi limes cerca di capire di fare un lavoro di immedesimazione in Putin per cercare di capire cosa lo muove e penso che chi sta affrontando questa crisi gli staff di chi sta affrontando questa crisi a livello diplomatico cerca di capire se ci sono quali sono le vere cosa vuole davvero Putin è solo un'ossessione per l'Ucraina storica è una questione economica è una questione politica geopolitica energetica sapere cosa muove un personaggio oltre la cattiveria da fumetto penso che possa essere forse l'unica possibilità di poter intraprendere relazioni diplomatiche e cercare di risolvere il bando una matassa ma se non si capisce cosa lo muove ed è solo folli ha davanti alla follia terrenti ma anche del leader del nord corea che si dice che è pazzo in realtà ha sempre dimostrato nella sua follia che a noi sembra follia e basta ha dimostrato di avere una certa razionalità in quello che faceva sapeva tirare la corda esattamente fino a poco prima che si spezzasse ormai non seguo più le live su twitch riguardo le relazioni internazionali perché sono spesso troppo superficiali ti consiglio però di recuperare quella che abbiamo fatto io tenet project per la regio politica Salvatore Sant'Angelo su poltrona politica canale youtube lo puoi riascoltare su spotify ma poi Boldrin si lamentava che Putin mentisse ma si si questa la menzogna è una cosa che ossessiona Boldrin non so perché non lo so perché come se come i politici di tutti i tempi di tutte le parti non mentano portando davanti la loro narrazione per giustificare le scelte ma assolutamente ovvio questa cosa di Boldrin ossessionata la bugia mi fa spesso sorridere ma lo scontro Boldrin Tenet dove è venuto è venuto qui è venuto qui proviamo a risentire l'audio se si sente ve lo faccio sentire un pezzettino vediamo eccolo qui la voce grossa di tutte le cose che vuoi minaccia ammazza un po' di gente a caso ma guai a te a farla prego perché si ci impegna adesso la televisione cinese dice no buona idea invadere l'Ucraina no buono no buono vintane fare buono in volere faccia oh svegliate niente guerra in poche parole va bene no le chance che Putin segua attimo aspettate 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 le speranze le chance che Putin segua l'anime di out attack on titan è che sia stato ispirato dal rambling sono basse ma non sono zero esatto sotto boldeen dove dice che non ci sarebbe stata guerra russia ucraina l'avete appena sentito se l'avete sentito non lo so ma nessuno parla del fattore gas no no ne parlano tutti ne parlano tutti ma poi tutta questa ritorica sul fatto che Putin o altri siano pazzi folli mendicati come lo so d'ortini di riconoscere le scelte di una persona si lo considerano relativamente però siccome non è statisticamente misurabile non la si comanda ah beh ecco ha senso ha senso chi ha veramente ragione in questo momento ma per quello che è la mia posizione la mia ottica abbiamo ragione noi ho capito l'ucraina è non stato riconosciuto da tutti la russia la invade però da come ho capito io ascoltando un po' tutti queste settimane mi pare che ci siano delle ragioni dietro questa questa cosa questa azione di Putin e cioè quella di mettere più distanza possibile tra lui e la nato che si stava avvicinando troppo perché l'ucraina aveva fatto richiesta di entrare nella nato e alla russia questa cosa non andava bene però un conto che non diva bene cerchi i via diplomatica risolta e non invadere un altro stato per quanto mi riguarda a me l'invasione violenta di altri stati non è un principio che che mi appartiene quindi ovviamente quando come cartella ah ok a Putin conviene il blocco dello swift ma no glielo fanno a lui insomma questo io ho sentito ma non chiederle a me queste cose che vuoi che ti dica io ti posso ripetere quello che ho sentito da persone esperte che ho sentito che il blocco del pagamento swift è una cosa che danneggerebbe Putin fino a un certo punto ma è anche vero che chi fa questa azione aspettandosi sanzioni economiche si sia organizzato per sopperire a questa cosa se pare infatti che per risolvere questo problema del blocco dello swift ci sia già accordi con la cina è molto riduttivo dire che sia solo una guerra per i gas si si sono assolutamente d'accordo sono assolutamente d'accordo penso di essere solo in questo momento quindi posso alzare un po' la voce sono da solo? si e allora capite bene che io quando ho visto questa cosa qui ho detto ma cavolo già fate i saputelli che sapete tutto di Russia di Cina e cazzi e mazzi sbagliate le previsioni questa cosa di fare le previsioni rende chiunque parla di questi argomenti non credibile per quanto mi riguarda un analista serio che sia di politica di comunicazione politica di situazione sanitaria economica eccetera deve soltanto registrare quello che sta accadendo in quel momento fare le previsioni le previsioni si fanno in camera caritatis presso nel silenzio nel nella privato perché ovviamente il decisore politico ha bisogno di un tentativo di previsione per potersi muovere in anticipo e risolvere cose Andrew on Twitch era 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 presente Andrew on Twitch ieri mi pare be done live ah be done live ok vabbè dopo me l'ascolto volentieri tanto in diretta se non c'è la contradduzione italiana non ce la faccio quindi io a me come posso dire questi questo modo di fare non mi piace perché si è persa perché nessun virologo è credibile quando va in televisione perché hanno tentato di prevedere gli eventi se tu ti esponi in pubblico prevedendo quell'evento non sarà mai così sarà così sarà così poi quando non accade siccome è provato a prevedere una cosa e nessuno può prevedere le cose proprio per il fattore umano e altri 10.000 fattori alla fine si perde di credibilità quindi non è meglio dire non si sa come andranno le cose è veramente difficile dire quello che può accadere poi se sei un vero analista penso che il fattore umano lo tieni in considerazione però prodigarsi in queste in queste cose qui ma si che perdono di credibilità il gioco di prevedere ma si può si può anche fare ma facciamo un bel disclaimer dove dice allora non si può prevedere se dite a me Delly Mello chi vincerà le prossime elezioni in Italia nel 2023 se voi me lo chiedete tutti quanti io vi dico cosa ne penso io ma già il mio giudizio sul 2023 è figlio del periodo che stiamo vivendo adesso in questo momento quindi io che cosa vedo vedo che c'è una certa parità di fondo vedo che c'è questa legge elettorale praticamente proporzionale con minuscoli correttivi vi direi per me non vince nessuno e tornerà Mario Draghi appresso a un'altra coalizione che si formellano addietro se ve la devo sparare adesso poi se devo fare qualche considerazione in più dico se guardo attentamente ai temi di comunicazione politica che saranno al centro del dibattito politico dove i partiti si rapproprieranno dei loro spazi di manovra mi sembra che l'orientamento che vedo che sarà su energia ambiente giustizia e qualche altra cosa siano temi dove in genere le parole d'ordine più forti ce li ha il centrodestra e anche vedendo il leader del partito democratico mi sembra che sia stia facendo tutto un giro particolare tra le chiese che gli gravitano intorno ma non mi dà un'idea di solidità di nessun tipo quindi se a me in questo momento con le mie considerazioni ma ce ne possono altre centomila di cui non tengo conto può avvenire fuori uno scandalo può avvenire fuori un altro argomento così all'improvviso può succedere qualsiasi tipo di cose un arresto un rende salva una bambina da un camion in diretta televisiva possono accadere talmente di quelle cose che rende tutto imprevedibile e quindi secondo me se uno vuole fare l'analista serio allora evita il pronostico se non mettendolo no 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 ma è improbabile analizzando questo 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 è improbabile se uno invece fa allora se me lo chiedete io se io fossi dico non lo farei perché così 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 Boldini fa previsioni su covid previsioni sulla Russia previsioni sul mio futuro se solo avesse fatto una previsione su Giannino questo è bello è cattivo è bella però se fosse facile come in One Piece fare le previsioni belli saresti meglio di non strada mussebava vanga e beh in One Piece ci prendono in One Piece si possono fare le previsioni le supposizioni possono fare chiunque per assurdo io e me possiamo fare supposizioni sul virus quindi credibilità pari a zero sì pure io posso fare la mia supposizione sul virus ma non ho capito perché conta se la dico online la solita previsione e previsione sono veritiere è vero è vero è vero beh io guardando quella live non mi è piaciuto questo atteggiamento da blastatore non mi piace quando è portato avanti con questa serietà senza toni più tranquilli ironici e niente non ci volevo fare c'è il discorso di Biden con la traduzione in italiano beh beh mi muoverò anch'io a vederlo dopo in italiano sicuramente ma vi dico la verità capisco il vederlo in diretta va bene tutto ma se dobbiamo stare a guardare ogni cosa accade in diretta non ci stacchiamo più degli schermi cioè secondo me serve serve vabbè non sto parlando di Ivan che è in diretta ovviamente porta un servizio per quanto mi riguarda preferisco la mattina dopo o prima di andare a dormire a vedere un po' cosa è successo durante la giornata anche perché sono meno mi muovo meno con le emozioni del momento se sto a vedere ogni cosa che accade sono un po' vittima dell'emozione del momento sapendo che le vedo a sera sono già successe tutte si ridimensiona tutto e lo vedo un po' più di tranquillità perché pure a me piace capirle queste cose però per cercare di capirle cerco di ascoltare un po' tutti ho capito che non si possono ascoltare tutti si devono prendere proprio col conto è come quando si dice i giornali che schifo i giornali che schifo giornali che schifo giornali che schifo dipende cioè i giornali in realtà danno delle informazioni e si ci vuole anche un po' di distacco hai visto Yavrov che rimprovera di Maio ho letto un articolo ma non l'ho visto non l'ho visto e ho ancora 4 ore all'uscita di Elden Ring bisogna farsela passare beh io oggi mi stavo vedendo la prima giocata di Sabaku a Elden Ring